Una commissione sinodale congiunta con le quali le chiese di Città di Castello e di Gubbio aprono una nuova fase attraverso una serie di incontri fra Umbertede, i comuni di Fernate e quello Gubbino e per finire con quello nell'oratorio Ore d'Oro di Trestina. Il vescovo Luciano Paolucci Bedini infatti ha lanciato l'idea di un percorso interdiocesano con l'obiettivo di farsi conoscere e conoscere, confrontarsi e perché no presentare proposte concrete che saranno poi offerte agli altri della commissione. Sono cominciati i lavori della commissione sinodale interdiocesana che affronta la questione della pastorale con attenzione alla famiglia e alla famiglia in generale con una partecipazione straordinaria di tante persone che vengono sia dalla diocesi di Gubbio che dalla diocesi di Città di Castello. I destinatari di quello che è un vero e proprio cammino formativo sono i responsabili e membri dell'equipe di tutti gli uffici pastorali diocesani, le coppie sposate, i diaconi in servizio pastorale i sacerdoti, gli operatori pastorali interessati alla prospettiva. Ogni incontro in presenza sarà preparato da un tempo di studio dei materiali indicati di ricerca e di condivisione di altri che potranno aggiungersi e dalla elaborazione scritta di considerazioni e proposte. È un momento anche per conoscerci tra chiese e sorelle che oramai è due anni che camminiamo insieme. Conoscerci anche i visi, le persone, quello che facciamo e soprattutto anche confrontare le nostre esperienze, quelle che sono le nostre ricchezze ma anche le nostre debolezze. Grazie.